Registrati per aderire alla campagna vaccinale anti-COVID-19. Accedi al portale vaccinazionicovid.servizi.rl.it. Leggi attentamente l'informativa. Spunta la casella sul trattamento dei dati personali. Clicca sul pulsante Avanti. Resta in attesa per essere collegato al servizio di adesione alla vaccinazione. Ricordati di avere a portata di mano la tessera sanitaria e un numero di cellulare o telefono fisso. Compila la sezione con i dati anagrafici e di contatto. Spunta la casella ed esprimi la volontà ad aderire alla vaccinazione anti-COVID-19. Clicca sul pulsante Avanti. Eccoti registrato. Scarica la ricevuta, conservala ed attendi di ricevere l'SMS con l'appuntamento per la tua vaccinazione. Grazie. Grazie.